Secondo me sono evoluto tanto, nel senso sono molto più maturo, conosco molto di più Aprilia, questo mi dà molto anche tranquillità e alla stessa volta pressione, pressione perché so quanto è importante per questa azienda stare davanti e lottare per delle cose importanti, questo è pressione, ma alla stessa volta sono tranquillo e maturo perché conosco tanto e questo mi aiuta molto. A livello di preparazione fisica non ho cambiato sinceramente niente per le sprint race, penso che sto preparato, è vero che durante i weekend si dovrà lavorare diversamente, ho preso anche un fisioterapista per aiutarmi ad arrivare più preparato la domenica perché il sabato sarà molto più duro fisicamente, però dobbiamo iniziare a vedere com'è perché tutti abbiamo tante tante incognite. Per me la constanza sempre sempre paga, sempre meglio, però è vero che avendo molto più gare perché con le sprint race avremo tante più gare hai anche opzioni di rischiare un pelo di più perché se fai dei errori hai più punti in gioco. La gente ci conosce tanto in pista, ci vede in pista, vedono i quali, vedranno le sprint race, vedranno tutto quello, però il nostro mondo è un mondo diverso, un mondo bello, si viaggia tanto per il mondo e questo ovviamente la gente non lo conosce tanto e mi è venuto in mente far vedere e conoscere tutta questa parte alla gente e ovviamente sono nell'ultima parte della mia carriera e mi è sembrato una cosa divertente e bella fare. Aprilia Racing ha evoluto e ha cresciuto tantissimo da quando io sono arrivato al 2017, è una responsabilità grande di essere un capitano, devi anche fare il capitano, non solo che ti chiamano il capitano ma devi anche attuare come un capitano, devi prenderti la responsabilità, io sono preparato e penso che sarà anche un'altra stagione buona.